Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Su molte zone dell'Europa meridionale l'anticiclone porta il suo carico di stabilità lasciando poco spazio alle perturbazioni. L'Europa centro-occidentale invece rimarrà ai margini della struttura anticiclonica e verrà interessata da una vasta area depressiva di origine atlantica che porterà pioggia e vento in quei paesi. Tornando all'Italia probabilmente dei disturbi si avranno a partire da occidente nella giornata di venerdì. Il resto delle regioni si ritroveranno al tempo stabile o al più nubi in transito ma senza fenomeni. E andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 23 marzo. Tempo stabile al mattino con qualche banco di nebbia nelle zone interne e nelle ore centrali possibili lungo le coste. A causa del forte contrasto di temperatura tra il suolo caldo e il mare ancora freddo. Ceglio serino sui restanti settori. Nel pomeriggio in serata poche variazioni del tempo se non la comparsa di qualche nube nelle zone appenniniche della Basilicata. Temperature stazionarie e oltre la media del periodo. Venti deboli moderati dai quadranti meridionali, martirreno e adriatico calmi, poco mosso lo ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo gli amici di Masseria La Fiorita che ci regalano questo scorcio di primavera delle verdeggianti colline nei pressi di Matera. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One o Teleappula. Oppure le mail che vedete in sovripressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione.